Fin dal suo primo posizionamento, le statue collocate nei pressi del ponte sospeso del lago di Vagli non hanno mai avuto il pieno consenso dei vaglini. C'è sempre stata una parte del paese che ha criticato la scelta dell'amministrazione, all'epoca guidata da Mario Puglia. Tra le statue, che furono posizionate anche per promuovere il marmo di Vagli, c'è anche quella in memoria dell'eroe russo Alexander Prokoreka, morto per la liberazione della città siriana di Palmira, accerchiata dai combattenti dell'ISIS. A seguire, furono poi posizionate sull'altro versante del lago tre statue, di cui una dedicata a Trump e l'altra a Putin. È proprio questa statue che in questi giorni, dopo la guerra in atto in Ucraina, con l'invasione russa in corso, è salita alla cronaca, in quanto il PD locale ha chiesto a gran voce la sua distruzione. Noi abbiamo proposto al Comune, e speriamo che recepisca questa nostra proposta, la demolizione. Ma proprio è una demolizione che deve essere fatta, presente in tutte le televisioni, per manifestare questa volontà contro l'invasione russa. Io dico che intanto bisogna aspettare gli eventi, ci vorrà una condanna internazionale dell'ONU verso Putin e se verrà fatta questa condanna internazionale e carta canta, l'amministrazione comunale prenderà le disposizioni se inserire questa statua nel Parco dell'Onore o del disonore. Senz'altro nel quello del disonore. Ma ora come ora la statua è un bene della comunità, è un bene che a distruggerla farebbe, l'amministrazione pubblica farebbe un reato, perché questa statua ha un valore. Cioè, come si può distruggere? Noi dobbiamo dare un forza impulso e dimostrare che questa deve essere demolita. Al momento l'amministrazione comunale di Vaglia, almeno da quanto emerge dalle parole dell'ex sindaco Puglia, non pensa di dover intervenire, ritenendo impossibile la sua distruzione o anche un qualsiasi spostamento della statua. Si muoverà quanto mette le gambe umane, se no che la statua rimane lì dove l'abbiamo messa noi, dove abbiamo posizionato anche le altre.